Vuoi donare una lucentezza invidiabile e nuance vibranti ai capelli delle tue clienti che le farà sentire indiscutibilmente uniche? Le colorazioni classiche hanno bisogno di più prodotti per mantenere viva l'immagine del capello che però perde lucentezza velocemente. Con ripetute sedute inoltre lo stelo viene stressato e si sensibilizza danneggiando la salute dei capelli. Pensa invece se potessi applicare un ristrutturante colorante che migliora la vita del capello colorando in totale sicurezza potresti diventare un vero e proprio artista che plasma il look delle tue clienti. Per questo Elegy ha studiato e creato nei suoi laboratori BAC Bioelement Active Complex, la formula segreta con più di 100 elementi botanici che ricreano immediatamente tutti i valori del capello rivoluzionando il mondo della colorazione. Grazie al brevetto BAC abbiamo realizzato il nuovo ristrutturante colorante Elegy che dona una lucentezza sensazionale e nuance vibrante. Il tuo cliente avrà sempre tonalità perfette grazie ad una resa del 37% in più rispetto ai prodotti tradizionali e una personalizzazione del colore in tutte le sue sfumature. Con la sua essenza in odore ha totalmente eliminato i problemi di allergie per via aeree merito della sua formula ricercata e delicata che rende ogni applicazione una seduta di benessere dicendo addio a bruciori e pizzicori sul cuoio capelluto. Il ristrutturante colorante Elegy è ad uso esclusivo dei professionisti e non viene venduto nella grande distribuzione o su internet solo ai parrucchieri che vogliono differenziarsi dai concorrenti. Il supporto è garantito al 100% con un team di specialisti che può risponderti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se anche tu nel tuo salone vuoi diventare lo specialista del colore ed avere sempre più clienti soddisfatte che ritornano clicca qui per richiedere l'esclusiva nella tua zona.